Uno che ha la parola e gli altri non possono neanche intervenire, se non illustrando un eventuale emendamento che avessero proposto. Tolto questo, l'attività parlamentare, che è un'attività tutta così di parole su leggi che o non verranno mai messe in votazione o vengono votate secondo impulsi di altri, è un'attività del tutto inutile sul piano individuale. A questo punto uno che lo sa può o andarci lo stesso per spirito di servizio e rispetto, ma non certamente pensando di fare cosa utile o di fare un lavoro, visto che il lavoro non è, ma non perché tu non lo voglia fare, perché non ti consentono di farlo e quindi potrebbe starsene a casa tranquillamente, ma evitare di fare discorsi come questi, perché questi discorsi servono a mortificare ancora di più il ruolo, a far pensare che i parlamentari sono dei delinquenti, a vedere esempi come quello di Lusi che è un esempio inverosimile, incredibile di uno che prende soldi non rubandoli, ma utilizzando dei soldi leciti per finalità illecite, altra cosa incredibile, una volta c'erano le tangenti, adesso sono talmente tanti gli imborsi che arrivano che non hanno più bisogno dei tangenti e si rubano i soldi che sono legittimi, quindi d'altra parte tra rubare i soldi e non rubarli, a parte la questione morale, non c'è nessuna differenza, perché se tu volessi impiegarli come il milione e duecentomila Euro che alla fine sembrerebbe arrivato a Rutelli legalmente, poi ti chiedi cosa ne ha fatto, non lo sai, ha ricevuto un milione e duecentomila Euro per una fondazione fantasma di cui non sappiamo niente, di cui non sappiamo l'attività, rimborsandosi non so quali spese. Allora l'altro dice, avendo per un partito che non c'è più, che è finito nel 2007, che deve ancora essere sciolto, c'è la Margherita, ha avuto un finanziamento assolutamente immorale e di cui nessuno ha parlato se non io in tempi lontani, che è la vera schifezza della politica, c'è un imborso di 5 Euro per cittadino che porta i partiti a spendere in campagna elettorale 15 milioni di Euro e non avere un rimborso più di lista, ma avere un rimborso che è 8 volte quello che tu hai speso, quindi spendi 15 e ti danno 100, spendi come ha speso il PD 12 e ti danno 90 o non so che, delle cifre, allora avendo questi rimborsi che non corrispondono alla natura dei rimborsi, ma a una così convenzionale definizione di rimborso che è un'enormità di danaro, quel danaro rimane lì e lui ha detto, meglio che io mi compro una casa anche intestata a me, che poi posso restituire in qualunque momento, perché con quell'investimento io questi soldi non li disperdo e li tengo invece vivi, cioè faccio un investimento, quindi ha detto una cosa, anche lui paradossale, grottesca, insolente, ma vera, quindi due casi, uno di ruberie e l'altro di arroganza, sono due casi che mortificano e fanno intendere quale orrore ci sia in quella funzione così importante che dovrebbe essere quella di rappresentare il popolo senza riuscire a rappresentarlo, allora quello che lui ha detto ha un fondo di verità, perché che lui vada o che lui non vada non c'è nessuna differenza, e anzi andando lui tradisce due volte, perché essendo stato eletto da Veltroni e nel PD, quando va a votare in Parlamento vota per il PDL, quindi tradisce nel voto stesso la ragione della sua nomina e quindi della parte politica che l'ha portato in Parlamento, e anche questo è legittimo, perché cambiare idee, essendo proprio della democrazia, c'è un articolo della Costituzione che dice che il parlamentare è in Parlamento senza vincolo rimandato, ma questo sarebbe senso se ci fosse andato con i suoi piedi attraverso la forza di prendersi i suoi voti, adesso invece che viene nominato, a proposito di uomo orrendo, da quel Veltroni che ha voluto fare il furbo, andando a pescare, come capolista, facendolo leggere, imporne l'elezione nel Veneto, nell'ambito di un mondo tra leghista e destra, dove Calearo diventava una contraddizione che sembrava anche lì tradire le ragioni e lo spirito stesso della sua parte, che era quella del capitalista, dell'uomo d'impresa, che invece si muoveva e veniva eletto nel PD a dimostrare, secondo Veltroni, che il PD era capace di attrarre anche industriali e non era un partito soltanto degli operai, ma anche dei padroni, una cosa schifosa, anche se logica, che ha voluto Veltroni e si è beccato Calearo, quindi adesso pianga se stesso, ma soprattutto paradossalmente questo mio discorso che è ovviamente critico rispetto alle grottesche e ridicole parole di Calearo, ma è logico rispetto al fatto che è meglio che non vada, piuttosto che vada a votare all'opposto di quelli che lo hanno eletto, questo è il paradosso, quindi non ha fatto nulla di male se non dire rimango per ragioni ignobili, ma se non voto sono più corretto che se voto, a questo punto siccome il parlamentare altro che votare non può fare, se non va fa una cosa che è come il pareggio è una partita di calcio, tra far perdere, tra farsi degli autogol e pareggiare è meglio pareggiare, quindi a questo punto, però è evidente che poi le giustificazioni che ha dato sono di quell'arroganza che proprio vista la cifra alta rispetto agli stipendi delle persone che vivono le loro condizioni difficili è di 12 mila Euro, dire servo a pagare il mutuo è uno schiaffo intollerabile e schifoso, però se uno ci ragiona dietro a tutte queste cose che ho detto, si vede che alla fine lui ha semplicemente rivelato una situazione che è abbastanza diffusa, in altri c'è un maggior pudore, quindi vanno, ma non è che siano più attivi o più utili di lui, sono tutti inutili e quelli utili che sono una quindicina, salvo quelli che fanno propriamente attività di organizzazione del voto, che sono i capigruppo, tutti gli altri, dico i capi dei partiti, vanno come meno di lui e hanno gli stessi privilegi e possono però compiacersi del fatto che la loro posizione e il loro pensiero si rispecchia in un voto di altri, lui non vota, ma tanto non vota perché tanto non sarebbe il suo voto, ma il voto che altri gli comandano e sarebbe il voto rovesciato rispetto alla parte che l'ho eletto, quelli che invece hanno un pensiero e stabiliscono cosa votare non votano perché fanno votare i peones, come si chiamano, come Calearo, allora in questa logica tutto quello che abbiamo letto va visto in questa dimensione spettrale, ma non c'è nulla che non sia vero, lui ha detto una verità e gli altri invece non lo dicono ma lo fanno e talvolta hanno, non dico l'ipocrisia, ma la correttezza di tentare di far corrispondere i soldi che prendono con un'attività che è comunque un'attività inutile, un'attività non personale, un'attività spersonalizzata, un'attività senza, quindi fare il parlamentare è diventato per tante ragioni un atto meccanico e che non dà alcuna soddisfazione, se uno non ha nulla da fare nella vita e se fare quei mestieri per cui il Parlamento è più o meno un'alternativa ludica, magari ci va anche volentieri, uno che fa l'industriale dice preferisco stare nella mia fabbrica, che poi non mi pare una fabbrica così Florida visti i risultati che avevo detto all'inizio, perché lì vedo che il mio lavoro ha un senso, andando a Roma perdo tempo, allora dice dimettiti, sì ma tanto la mia elezione non è stata un'elezione mia, è stata un beau geste, oggi è diventato orrendo, di Veltroni, allora si dimetta lui, si dimetta Veltroni che ha avuto il potere di fare eleggere Calearo, che ha deciso di fare eleggere Calearo e che è responsabile degli atti di Calearo anche negativi e allora quello avrebbe un senso, io ho fatto un errore grave, mi dimetto io, perché tanto Calearo e Veltroni sono identici, il voto di entrambi ha lo stesso peso e Veltroni può fare errori e continuare a farli perché ha un potere nel suo partito, che Calearo non può fare, Calearo nel suo partito da cui se ne è andato, come in quello in cui è arrivato che non esiste, non ha alcun potere neanche di fare male, quindi voglio dire meglio un parlamentare che non fa nulla e non può fare alcun danno di uno che fa la morale e ha fatto il danno di fare eleggere Calearo. Perfetto, professore grazie, buon proseguimento di giornata e buona settimana, l'appuntamento con lei è per domani. La conclusione quindi sia il vero Calearo e Veltroni, l'altro è un irresponsabile, quindi uno è un irresponsabile, l'altro è un irresponsabile, hanno lo stesso significato e lo stesso peso, meglio che si diventa Veltroni per vergognarsi della sua scelta e che non faccia la morale, prima lo chiama poi dice un uomo orrendo, un uomo che ha detto delle cose così, un poveretto, non dico la definizione che meriterebbe, ma lasciamo perdere gli uomini così, molto chiaro, va bene.